Il rischio petrolio in Abruzzo è ancora molto forte e l'ultimo disegno di legge del presidente della regione Chiodi, presentato un mese fa, non tutela il territorio abruzzese, anzi costituisce un deciso passo indietro rispetto alla legge 32 del dicembre 2009, voluta dallo stesso Chiodi, salvo poi essere impugnata dal governo. Lo affermano WWF e Legambiente. Le modifiche a quel testo apportate col disegno di legge intanto non prendono in considerazione gli idrocarburi in mare, si fa riferimento soltanto agli idrocarburi liquidi tralasciando quelli gassosi, soprattutto non si parla più di divieto di attività estrattiva, rimandando il tutto ad un'intesa tra Stato e Regioni, le quali faranno valere le loro competenze rilevando profili di incompatibilità delle attività di ricerca ed estrazione in determinate aree, espressione però troppo generica e che non dà garanzie. Da questo punto di vista è evidente che c'è un inibolimento della posizione della Regione Abruzzo che vede sostanzialmente in qualche modo rinunciare il proprio governo regionale a quello che potrebbe essere invece un ruolo fondamentale che i cittadini le richiedono. Insomma, a dispetto delle promesse questo rischio è ancora impellente? Questo rischio è sicuramente impellente, noi abbiamo fatto un'analisi puntuale, come sempre confrontandoci con quelli che sono poi i dati ufficiali fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico e riteniamo quindi estremamente utile che magari si apra un tavolo di confronto su questi aspetti perché altrimenti ci sembra che si continuino a fare delle proposte di legge che peraltro poi non portano a nulla. Il livello di guardia resta alto, lo confermano le recenti manifestazioni antiperforazioni petrolifere di San Vito e Lanciano. Alla Regione le associazioni chiedono massima chiarezza, la sede più opportuna sarà il Consiglio regionale straordinario di mercoledì prossimo 23 giugno. Prima di tutto è stato un Consiglio fortemente evoluto da tutta la rete delle associazioni, abbiamo fatto richiesta ai consiglieri, i quali l'hanno accolto e mercoledì prossimo c'è il Consiglio regionale. Noi chiediamo una risoluzione politica forte, è quello che ci interessa, fino ad oggi i tecnicismi non hanno pagato, occorre che l'Abruzzo e quindi sia il centrodestra che il centrosinistra dica a gran voce al Governo nazionale che questo non è il nostro futuro e rivendichiamo le scelte fatte fino ad oggi.